Pietro Andreozzi, presidente dell'ANIEM Salerno, l'edilizia vive un momento difficile, ma è possibile guardare con ottimismo al 2014? Assolutamente sì, bisogna guardare con ottimismo, soprattutto in questi momenti di grande preoccupazione. Oggi in particolare è una giornata triste per noi, assistiamo continuamente a queste tragedie. E' il momento, come dico da un po' di tempo, di fare squadra e cercare di proporre per il futuro degli argomenti che siano validi per la nostra ripresa. Noi ci crediamo assolutamente, non potremo fare altrimenti e stiamo mettendo in gioco una serie di strumenti che ci consentono di uscire da questo momento molto delicato. Ecco, che cosa si può fare concretamente? Guardi, noi siamo convinti che ci sono delle strategie oramai dal punto di vista industriale da abbandonare, nel senso che ci siamo resi conto da un po' di tempo che il pubblico è finito, nel senso che i soldi pubblici, i finanziamenti pubblici non ci sono più, quindi bisogna puntare sul project. Questo è un territorio che ci consente ancora di attuare queste sfide, per cui noi ci crediamo e nel corso del 2014 metteremo in campo delle iniziative che da tempo stiamo curando e sulle quali stiamo investendo, che ci possano consentire, almeno in questo settore, di uscire da questa crisi.